Musica Benvenuti ragazzi sono Jesse e questo è un nuovo video Oggi siamo su una nuova miniserie diciamo perché durerà solo fino a quando non uscirà la versione 1.13 di Minecraft Che non so minimamente quando uscirà perché vedo gli snapshot e aggiungono sempre più roba E secondo me ci vorrà ancora un pochettino prima che esco Comunque siamo in una modalità hardcore nella 1.13 lo snapshot quindi si aggiornerà pian piano che escono i nuovi snapshot E non ho la minima idea di cosa fare in questo momento qua perché io non gioco a Minecraft diciamo vanilla barra hardcore da solo da una vita Io ho una mia mappa server con dei miei amici in cui giochiamo nella versione stabile quindi l'ultimo che era 1.12.2 in vanilla Però non ho la minima idea di cosa fare qua Ovviamente devo farmi materiali non mi metto scopi precisi tipo Battere l'ender dragon perché Dubito che ce la farò perché io non ci gioco più da una vita e farlo da solo mi sembra una cosa già soprattutto in hardcore Però magari costruire qualcosa esplorare un po' vedere le novità che introduce la 1.13 Non mi dispiacerebbe affatto perché tra l'altro è una cosa che mi è sempre Interessato il fatto di mettere qualcosa nell'oceano perché sempre visto così spoglio sempre visto così Come dire vuoto si in poche parole vuoto perché non aveva niente a parte il fondale di 5 miliardi di blocchi Ovviamente c'era soltanto acqua e acqua senza niente manco di mettere i pesciolini perché tra l'altro E' proprio anche il fatto che pescare ma non vedere i pesci Cioè l'unica cosa che vedevi è la ste crature inutili che sono gli squid Cioè inutili Tornano utili quando devi fare l'inchiostro per dire adesso sono completamente inutili Però la cosa che hanno messo che mi piace è che è un botto che quando li picchi fanno le nube di inchiostro è una cosa bellissima Finalmente dà un senso alla vita degli squid E potrebbe essere una cosa carina Poi sinceramente non mi dispiacerebbe se magari in una cosa come l'1.14 o l'1.15 Adesso parlo proprio di un lontano futuro Mettere magari un'altra dimensione o qualche altro boss Perché adesso comunque alla fine si 1 o 2 mesi ogni volta che dopo che esce la versione Poi tutti hanno già esplorato tutto Poi quando è uscita la 1.12 o 1.11 la mansione E la gente magari aveva già il mondo vanilla suo già avanzato oppure se ne è creato uno Comunque non ci hanno messo troppissimo tempo a farlo e a battere anche la mansione E quando hanno messo la seconda mano soprattutto per mettere lo scudo Quella è una cosa utile Però alla fine ai fini del gioco non è una cosa che ti allunga il gameplay Quindi c'è un... Però adesso magari esplorare un po' il fondale marino Cerca di pesci particolari Poi per costruire soprattutto perché a me piace un sacco costruire Non sono bravissimo perché ho bisogno di farmi i miei progetti mentali Poi fare sfasciare tante di quelle volte perché Ah non mi piace così forse ho sbagliato una cosa forse ho sbagliato un'altra Io non è che sono proprio un must builder Però anche lì non mi dispiace perché alla fine se mi ci metto un impegno In tante ore perché non lo nego che ci metto tantissimo a fare qualcosa Solo perché a me piace tanto costruire le sopravvivenze Perché poi magari posso proprio viverci Perché se no se devo costruire in creativa Cioè dico magari ho un problema in un mondo di creativa Oppure la sopravvivenza metto in creativa Per poi mettere in una sopravvivenza Per da un po' i fini del gioco in sé Tra l'altro ho perso il cuore Sono un mongoloide perché tanto adesso non mi si rigenera niente Ora facciamo... Ah no si si rigenera giusto Qua c'è... ho messo... ho lasciato la rigenerazione naturale Ora faccio subito uno sticketto con una spadina Perché voglio uccidere qualche mostro Faccio un piccone alla veloce Così poi magari se riesco a andare in miniera Ecco cosa che non faccio da novità andare in miniera Magari facciamo un'accetta ma Che tanto male non può farmi Che tanto devo pigliare un po' di legna E se no la base non me la faccio Anzi pensavo proprio di magari anche poi Piovante di farmi la base subacquea O sopra l'acqua tipo palafitta o roba del genere Perché... Ah ecco l'update del mare Non farebbe tanto schifo viverci lì accanto Tra l'altro dovrei trovare un mare Eh Anche questa non sarebbe una cattiva idea Trovare un mare Già trovare un mare Mentre mi sono alzato che fuori di casa Ci vediamo tra poco raga Ok raga allora Mi sono stabilito qua un attimo In questa mini pianura diciamo Perché ho fatto una fornaccia Ho fatto tipo due o tre strati di scavaggio Scavaggio Come parlo oggi? Vabbè Ho raccolto ancora un filo di legna Ho ucciso un po' di animali Giusto per farmi un po' di carne Adesso sto cuocendo un po' di roba Perché se no muoio Io inizierei a provare Ancora andare un pochettino più giù A vedere se riesco a trovare Un po' di carbone Magari un po' di perro Non mi farebbe tanto schifo Che tra l'altro Io proprio in miniera Ho sempre avuto una fortuna Che... Di quelle Allora Questo episodio sarà a cordo Perché diciamo Un episodio introduttivo Così magari off camera Riesco a scavare Mi metto poi lì Una o due arette ogni tanto A scavare Eh Magari a trovare un po' di roba decente E magari a esplorare E cercare l'oceano Che schifo non mi farebbe Che poi magari Non mi dispiacerebbe Trovare il tridente Che lo droppano i drawer Che mi sembra che si possono farmare Facendo negare di zombie Sono abbastanza convinto Che si possa fare così Comunque niente ancora Quindi ora Aspetto che cuocia La roba E poi metto a cuocere Del legno grezzo Per farmi un po' di carbonella E mettere a cuocere Cioè E farmi Le torce Quindi Ora potrei farmi Un'altra fornace Così Ok E mettere Ancora un po' di legna Qua A cuocere Questo Poi ho visto Un pollo Come un altro pollo Vieni qua pollo Non ho intenzione Di fare qualche farm In questo momento Di animali Perché tanto Se decido di spostarmi Non mi servirà niente Trovare gli animali Cioè Recintare gli animali Fare di produrre Tanto Credo che mi muoverò Abbastanza Fino a quando Non troverò l'oceano Però L'idea Sinceramente Come tipo L'idea Di farmi una parafitta E roba del genere Magari con il pavimento in vetro Non sarebbe Per niente Una brutta idea Come il pavimento in vetro Però All'orizzonte Non vedo niente Vedo montagne Vedo foreste Che bella cosa Cioè tipo Avessi detto Ma voglio andare in montagna Mi ritrovo di sicuro Dall'oceano Proprio Di sicuro Cento per cento Allora Vediamo un po' Qua Non vedo Altro Di utile Vedo Ancora montagne Alberi Potrei prendere Altri alberi Allora Inizio a farmi Le torcette Ok Perfetto Potrei mettere qua Qua Visto che non ho ancora Trovato delle pecore Per farmi la lana Se mi vecchio i mostri Muoio già subito Sarebbe anche Un po' Una porcata Che io Ne sarei capace Vi dico che Io Arcor Arcor Lo avrò fatto Sienno Uno o due volte Ho durato Ho durato pochissimo Non è perché Non ho il tempo Cioè non ho proprio La pazienza di giocare L'arcor In cui devi proprio Fare le cose Attentamente Tipo Non buttarti Dai posti Alti E roba del genere Perché C'è la rigenerazione Più lenta Il T Consuma Ancora di più La fame E se si sta già In piena di mostri Porco Schifo Perfetto Un po' di esperienza Non vedo Altro Altro Il zombie Che sta vicino Ho paura di schiattare subito Vedo un creeper Raggiù Un maledetto Tra l'altro Questi giorni Di creeper Li sto odiando Più del solito Perché Stavo Nel mio mondo privato Vanilla C'è il mio server Con i miei amici C'è Un Stiamo costruendo Tipo Diciamo Il sistema solare Anche se Le proporzioni Non sono proprio Identiche A quelle Del sistema solare Però Bisogna fingere Di fare I pianeti Veri e propri E un po' Finito di fare Saturno Gigantesco Mi esplode Un creeper Sopra Che odio Raga Non potete capire Allora Vediamo un po' Ecco Se evito Di collegiare Magari Ok Io direi Che Due cose Le abbiamo fatte Il bisogno introduttivo E' stato fatto Io direi Che questo video Può concludersi qua Io vi invito A passare negli altri video Del canale A passare Nel link di instagram In descrizione Per seguire Le mie storie Quando annuncio Magari qualche live O qualche video Particolare Roba del genere Vi invito a passare Nel link di instagram In descrizione Per giochi scontati Visto che Minecraft Attualmente Dal sito Mi sembra che costi 23 euro E 90 95 Qualcosa del genere E Laggiù costa 20 e 90 Quindi Direi che qualche soldino Sa di risparmi Perché anche finchè Un centesimo Ho risparmiato E' sempre un centesimo Ho risparmiato Io Vi saluto Da Celes è tutto Ciao a tutti Bella